Avete problemi con i feri? Flappa, top, poca compressione, palla storta? Allora in questo video di oggi vi da quattro semplici step per migliorare i vostri feri. Uno degli errori più grandi dei dilettanti è il fatto di usare troppo la parte sopra del corpo per fare lo swing. Non va bene, il segreto è usare il corpo per muovere il bastone, non il bastone che si muove il corpo, ok? I dilettanti cosa fanno? Iniziano già troppa in tensione sulle braccia e le mani, sulle spalle e il movimento parte da zero con un'esplosione di energia o qualche volta anche troppo lento ma arriva troppo dalla parte sopra e il corpo rimane statico, si muovono troppo così o troppo veloce, arrivano all'apice del swing, il corpo non è girato ancora, la prima cosa è scaricare il bastone subito verso la palla creando una situazione che l'energia è tutto scaricato prima, il peso di mano destra faccia la flappa o cosa faccio? Per non fare la flappa, tira sul bastone e prende la palla in testa. Non solo quello, la faccia del bastone arriva troppo storto, o chiuso o aperto e la palla va corta e storta. Il vero segreto è quello che fanno i professionisti. Come un giocatore, Stenson, il svidese, bravissimo, lui usa la terra, usa i piedi, le gambe, la parte centrale per spostare il bastone, il bastone segue quello che fa il corpo. Cosa fa lui? Lui parte con un piccolo movimento verso sinistra, come se un modo per iniziare tutto, lui parte un po' sinistra, da lì lui si sposta a destra e tutto va via insieme. Allora lui sta spostando questo bastone grazie al corpo, è come se il bastone pesa 100 kg e con la braccia e le mani lui non riesce a spostare. Cosa fa? Usa la massa, la forza del corpo, lui fa un piccolo movimento davanti, poi usa il corpo, può spostare questa massa. Ok? Allora sto usando i piedi, sto usando le gambe, qui, qui, ma la cosa più bella è quando arriva all'apice questo peso, questa massa è diventato 150 kg. Non posso farla arrivare in giù così perché se no mi rompe tutto. Allora prima deve arrivare in su. Cosa fa lui? Lui comincia a spostare il peso a sinistra, allora è sinistra, sposto, sinistra, sinistra, sposto a destra, sinistra e questo bastone segue la linea di massa, segue il mio corpo e a questo punto c'è anche il bastone che ha creato un angolo più stretto. Non sto spingendo, questo mi sta seguendo e cosa mi trovo? Quando sono qui ho il peso più sinistra, ho le mani più centrali, adesso sono posizionato, se io scarico il bastone colpisco davanti alla palla, dopo la palla. Non sono qui indietro, ma sono qui davanti. Non solo ho riuscito a prendere palla e zola, ma mi rilascio, l'estensione è molto meglio. Ho creato una situazione, basta che riesco a fare l'effetto spirale, che mi alzo, posso scaricare, grande rilascio, faccio il bastone più square e la velocità è molto molto meglio. Adesso passiamo al secondo step per questa lezione. Step numero 2. Finish che punta il bastone verso l'obiettivo. Adesso prendiamo quello che abbiamo usato nella prima parte, la sensazione di step, 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 sinistra, destra, sinistra e facciamo un swing più corto dove il bastone punto dritto verso l'obiettivo e ho tutto due le braccia disteso. Voglio mantenere gli angoli giusti, ma questo è importante solo per cosa? Per sentire che riesco fai step, 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 che ho rotato bene il corpo e ho la braccia disteso. Così ho tre quarti di un finish, così posso controllare se tutto è in ordine. Allora non sto cercando di fare un colpo lungo, ma sto cercando di creare un swing ritmato, fluido, ma al stesso momento che sento che ho questa posizione finale corretta. Allora prendo un T, una palla. Per fare più facile uso il T, ma il T è molto basso. Quando cominci a prendere un po' di sicurezza con questo esercizio, se fai senza il T e cerca di spazzolare o fare le zolette dopo la palla. Allora facciamo la prova. Piedi un po' più vicini, braccia rilassate. Se sei troppo in tensione comanda la parte sopra, non vogliamo. Te devi sentire leggero, braccio disteso ma leggero. Allora step, 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 finish, punto verso il bastone. Rifacciamo uno. Sinistra, destra, sinistra. Ok? Molto importante che rimani in asse. Quando vado a sinistra, destra e sinistra, non è che sto dondolando troppo. Vado un po' sinistra, vado a destra con rotazione, vado a sinistra e vado in rotazione di nuovo. Voglio sempre rimanere dentro questi parametri qui, che non devo mai andare troppo in sway. Ok? Facciamo una prova. Posizione. Ok. Step, step, step. Bello. Molto, molto bene. Molto potente. Ho sentito proprio che il corpo comanda, le braccia seguono, le mani sono rilassate e c'è questa esplosione di energia proprio alla fine. Step numero tre. Per impattare questi feri perfettamente vogliamo colpire la palla, poi la zolla. Allora qui ho messo la palla per terra con un alignment stick leggermente indietro. Il mio obiettivo, quando faccio il down swing, voglio scendere sopra questo alignment stick, colpire la palla, fare la zolla subito dopo e così ho un impatto creando compressione sulla palla. Ok? Molto importante che io sento sempre lo stesso discorso. La sensazione step a sinistra, step a destra, step a sinistra. Sempre parte con mezzo swing. Ok? Quando cominci a prendere feeling e senti che sei più sicuro, puoi aumentare il swing come lunghezza e anche la velocità. Allora io parto con un swing molto leggero. Step, step, step. Cerco di puntare il bastone davanti e ricreare quello che ho creato in video, scusa, in step numero due su step numero tre. Ok? Mi metto in posizione. Piedi non troppo larghi. Sono rilassato. Braccio le mani. Palla leggermente a sinistra e centrale. Ok? Facciamo questa prova. Ottimo. Ho sentito le stesse cose. Una bella rotazione indietro davanti. Ma con un piccolo step. Step a destra. Poi a sinistra. Rotazione. Ho puntato il bastone verso l'obiettivo. L'angolo di tacco perfetto perché non ho toccato il bastone. Step numero quattro. Vogliamo colpire la palla scendendo. Palla zola. Questo vuol dire creare compressione sulla palla per avere un impatto fantastico. Allora cosa faccio questa volta su questo esercizio? prendo due T. Le metto due T leggermente davanti alla palla. Una lì che è leggermente alzato. Ok? E l'altro qui. Ma non troppo alzati. Sono, ecco, bello infilzato dentro il treno. E riesco solo, ecco, se vedi qui, toccare il T ma non sono troppo in alto. L'obiettivo diverso dell'esercizio numero 3 dove c'è l'alignment stick. Voglio arrivare scendendo ma queste volte voglio prendere la palla, colpisci il due T, almeno sfiorarli. Cioè se riesco a toccarli, perfetto. Poi se vengono fuori dal terreno va benissimo uguale. Usando il stesso metodo. Sento che vado sinistra, destra, sinistra. Ovviamente in rotazione e cercare di fare il finish in questo modo qui. Voglio partire con mezzi tre quarti di swing. Quando prendo sicurezza e feducia posso allungare e velocizzare il movimento. Facciamo questa prova. Piedi non troppo larghi. Braccio rilassato. Sinistra, destra, sinistra. Bene. Questo ho preso più bello di tutti. Ho fatto un sacco di strada. Se vedi qui ho sfiorato, ho spostato i tisos alzati tutti e due. Non ho fatto la zona, ma il mio swing era assolutamente scendendo perché sennò non spostavo questi due T. Ho sentito una compressione della palla molto bello e la palla è andata molto dritta. Addirittura ho preso un leggero drop perché quando sono rilassato il bastone può arrivare anche dall'interno. Ok? Allora ricordatevi, importante, il corpo comanda, la braccia segue, non contrario. Praticate questi esercizi e vedrai che differenza. Be your best. Se ti è piaciuto questo video, schiacciate il bottone like e condividi con un amico. Puoi cliccare sul campanello vicino al subscribe per non perdere più un video come questo.